bella vecchia e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui e finalmente l'ho finita dopo tipo due pomeriggi interi o anche di più non lo so l'ho quasi finita ci ho messo le redstone lamp ho fatto questa scaletta qui l'avevo già fatta già un po come se verrebbe il silta ci permette sull'erba e che non ho ancora quindi penso che lo farò poi oltre che il davanti di questa stalla ho fatto qua di fianco e poi anche dietro non so se ve la riuscirò a far vedere dietro perché mentre qua c'è l'acqua mi butto ok questo qua dietro molto impiace dietro bello molto molto bello ma pensiamo a quello che dobbiamo fare oggi aspetta il sindicato fare di farvi vedere una cosa ho scritto anche tutti i colori cristo santo muori sempre a rovinarmi la intro ok quello che faremo oggi quello di fare i tappetini qua c'è bianco mettiamo i tappetini bianchi perché così almeno so quello che ci devo mettere in questo punto qua è grigio qua ci facciamo i tappetini grigi e così via adesso ci facciamo subito i tappetini bianchi tanto per dirvi per farvi vedere la mia idea solo che non mi ricordo tutti i colori quindi non so innanzitutto scusate se parlo così perché è mattino presto e sono un po ancora un po stanco quindi abbiate pazienza ah giusto hanno fatto aggiornamento dei letti adesso voglio fare il letto color delle mie skin la skin azzurra quindi prendiamo questo letto ci facciamo un labislazio e l'osso ok vediamo così si faceva light blue e poi questo con questo light blue bad vai via ora mi piace di più ma guardate una cosa hanno cambiato lì in basso l'icona del letto bellissima cosa ok andato farci vedere come le voglio mettere poi dopo dovrò fare anche gli altri colori bianco a qui ok a posto e ora facciamoci il light grey quanti creeper ci sono butto in acqua anche la c'è lo scomparso ok davvero devo andare a casa non esplodere dai non vabbè bene anche tu ma che scatole ci sono un bordello di creeper dai io c'è ok ok vieni qui ti faccio esplodere non esplodere ok vabbè affinché sei nell'acqua ci sta ci sta mi vorrei incantare anche l'armatura ma che facciamo in questo episodio o non lo so light blue fatto ok dove l'ex blu adesso orange pink lime magenta light blue ok magenta dai grazie mille ma se io lo metto questo qui questo qui no me ne scrivono due basta ma perché infatti tra questo qua è il magenta orange magenta abbiamo il purple che si fa con il rosso e il blu l'ho già visto il rosso infatti rosso qui qui no perché ne ho fatti due ne ho fatti quattro no vabbè purple bravo dove è il purple ecco ok vado a mettervi a mettervi un po di cosa vado a fare il rosso adesso ok qua c'è questo e ne ho fatto uno e andiamolo mettere nella stalla il giallo grey pink guardate quanto è acceso il giallo bellissimi colori nella 1.2 questo snapshot sono dei bellissimi colori il rosso più il giallo ok abbiamo fatto l'arancione un blu come che si facevo il lime ah con il cactus adesso mi viene in mente no stai calmo che non ti ho fatto mai niente di male quindi devi stare calmo assolutamente calmo grazie però ci andrò il giorno dopo e quindi adesso vado a casa dormo e poi vado a prendere l'arancione no è che dico l'arancione il verde cagnoce prendere il verde vai quello parchetto ok ora possiamo andare a cuocerlo e aspettare e poi fare i restanti colori usiamo la mega fornace ok no veramente ho già finito il carbone qua eh si mi sa tanto che è il momento di andare in miniera è sempre più vicino ce l'ho ho uno stack e basta è che così che si fa il nero no insomma che si fa il nero questo qua è il green green proprio ah si è il verde proprio ah mi è venuto in mente come si faceva il nero con i sacchi di inchiostro green ok ora questo più questo mi da il lime più questi due mi da il lime carpet ok lime ok vado ad ammazzare un po' di polipi il black era qua ora mi serve il grigio ok 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 questo quello qua abbiamo finito ora quale ci mancano light gray si faceva secondo me così aspettate un attimo gray più ecco sì light gray ok così e abbiamo fatto il light gray adesso ci manca il oh mio dio il ciano come si faceva il ciano eh vediamo un po' oh a casa ho fatto il ciano ottimo bene bello il ciano non pensavo che era così bello il ciano mi piace ok il marrone ah con il cacao e dove lo trovo il cacao ok ottimo e doveremo andare a cercare il marrone che adesso poi io non ho mai trovato una giungla quindi sarà un po' un problema dove poter cercare va bene abbiamo fatto quello che ho potuto qua ci volevo mettere anche delle casse ma più avanti intanto abbiamo fatto tutto questo ci manca soltanto il marrone però lo faremo quindi per questo video è tutto noi ci vediamo al sentiamo un prossimo video e bello ciao